Cosa penso dei miracoli? Diciamo subito che il significato originario di miracolo era quello riferito ad un evento che crea meraviglia e sorpresa. Quindi si può ben dire che rappresenterebbe un fatto straordinario, cioè fuori della normalità, soprattutto quando non si va oltre le nostre esperienze quotidiane. Per questo si pensava non connaturato alle leggi naturali e quindi opera di volontà misteriose e divine per punire noi poveri mortali attraverso gli eventi funesti e dolorosi o per premiarci attraverso quelli felici e gioiosi. E' chiaro che in questa supposizione è implicito il complesso di colpa. Intanto si può osservare che 1. I miracoli non sono un'esclusiva di nessuna religione. ognuno ha i suoi santi, santoni, guru, illuminati che compierebbero tutti una serie di prodigi sulla nostra salute, amori, affetti, affari e il seguito a suppliche e preghiere dei propri fedeli. 2. Oggi la medicina sa dare una spiegazione scientifica su molte di queste guarigioni. Un tempo misteriose. Fra l'altro è stato osservato che dopo interventi chirurgici o autopsie su cadaveri molte malattie erano recedute spontaneamente e senza che il soggetto ne fosse stato a conoscenza. D'altra parte noi stessi possiamo constatare come le ferite sul nostro corpo guariscono spontaneamente. sappiamo anche che col riposo vengono riparati tutta una serie di danni sui nostri tessuti e organi dovuti all'ogorio naturale della vita. Quindi si può ben dire che i cosiddetti miracoli sempre che siano tali e non degli abbagli possono benissimo considerarsi degli eventi naturali anche se straordinari. 3. Poi a conferma della veridicità dei miracoli al fine di legittimare così un ipotetico intervento divino si chiede sempre conferma agli scienziati come se essi debbono sapere dare sempre in ogni modo una spiegazione scientifica dei fatti naturali. così si porrebbe fra l'altro la scienza al di sopra della religione e le verrebbe conferito il carattere di religione suprema. Per questo motivo io ai miracoli ci credo veramente e per esserne toccato non è proprio necessario invocare misteriose forze al di fuori di noi stessi basterebbe guardare meglio dentro il nostro profondo intimo vi scopriremo un mondo sorprendentemente meraviglioso e prodigioso. Con questo aggiungo che io stesso mediante esercizi di rilassamento e di meditazione ho avuto delle guarigioni di svariati disturbi e malattie proprio dove i farmaci avevano fallito anzi posso ben dire che si può gestire meglio la nostra salute affidandosi meno ai farmaci e ai santi e di più alle nostre forze ma anche alle conoscenze scientifiche sulla natura e origini dei nostri mali e malanni. Ma ci cascano tutti in queste trappole? Per fortuna no, altrimenti il mondo andrebbe veramente a rotoli. in conclusione si può ben dire che tutte le credulonerie di tutti i tempi rientrano in tutte quelle forme di superstizioni come le pratiche di maghi, stregoni, fattucchiere e quant'altro che promettono, mediante ridi e magie a pagamento prodigi e affrancazioni di fatture, malocchi e iatture. e allora e allora Grazie.